Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo sempre vostro caro amico Alexio e oggi sono qui per portarvi un gameplay, un video gameplay, diciamo speciale su un gioco totalmente diverso da quelli che sto portando in questo momento e volevo portare appunto questo tipo di contenuto speciale perché oggi è appunto il mio compleanno quindi... grazie, grazie, grazie e quindi vabbè, comunque era tanto per fare qualcosa di diverso e per pubblicare comunque diversamente dalla mia routine quindi il lunedì e il venerdì che solitamente pubblico due video questa volta viene di sabato ed è bene sì, vi faccio uscire comunque un altro video perché ho tempo e perché mi va e quindi oggi ragazzi vi porterò un gioco molto molto carino e che io reputo veramente troppo divertente anche da giocare ma soprattutto anche da vedere perché l'ho visto da un sacco di gente e mi sono divertito tantissimo però ci vuole effettivamente giocare e scoprirlo con voi quindi oggi, oggi vi porterò questo eccoci qua su Untitled Ghost Game che praticamente è un gioco, è un simulatore, chiamamolo così, di un'oca noi siamo, noi siamo, anzi io sono un'oca che deve compiere delle missioni e deve anche rompere le palle comunque a determinate persone nel gioco e il gioco è tutto qua però è divertente perché ci possono fare tante cose carucce e assurde perché da quando noi possiamo impersonificare un'oca cioè, quindi vabbè, bando alle ciance, andiamo a giocare che più che altro, per chi sa un po' l'inglese, il vero titolo del gioco è questo però se noi andassimo a tradurre il titolo il titolo del gioco sarebbe no titolo, gioco dell'oca quindi, bel titolo, complimenti e la cosa ancora più divertente è che si può giocare anche in due ragazzi si può giocare in due in locale quindi se io, putacaso, qui avessi un'altra persona potremmo giocare in due ed essere due ochi che andavano a rompere le palle alle persone adesso vi faccio vedere tutto così almeno vi sto ad annoiarvi allora, sì, facciamo il primo salvataggio e andiamo, andiamo comunque ragazzi, per chi volesse donarmi qualcosa un caffè, un qualsiasi cosa lascio comunque qui il link in descrizione per, non lo so, per, non lo so, regalarmi qualsiasi cosa ma adesso non sto facendo il boomer assolutamente no ma comunque ci tengo comunque a lasciarlo e a dirlo a chiunque ci tiene a darmi qualcosa per contribuire alla crescita del canale o basterebbe anche un semplicemente un mi piace su questo video perché a me, per me conta tantissimo quindi comunque vedete un po' voi come potete fare insomma grazie ancora oh, eccoci oddio che bella, loca allora, tieni premuto là per correre ok che bella, loca guarda come cammina per piegarti in avanti ah, posso anche inchinare, non vedi per risale il becco no, vabbè ah, posso prendere anche gli oggetti con B bellissimo rega, devi prendere cose da terra già fatto aspetta ah, questo, ok e poi lascio con B, perfetto cadiccio oddio, bellissimo questo che dovrebbe fare con con RT non ho capito apri le ali ma non serve a niente ho fatto zio fa me nanna basta ammazza è capace pure apri i cancelli no, vabbè ammattimmi te no ha sganciato tutto porca troia perché è andato a ricanciare l'addosso non puoi farire come cammina e come come reagisce ah, tieni premuto per battere le ali no, vabbè inizia così il gioco no, vabbè poi con sta musica di sottofondo no già me l'hanno passata è raga tanto carina oh, mi rubo qualcosa una mela buona oh, me la porta a un giro ma non magna stava sta a digiuno poi lasciamola qua rimbalza pure eeeh un tramezzino no possiamo fare un cazzo ok, andiamo a rompere le palle a qualcuno dobbiamo cercare qualcuno da a cui assillare le palle da a cui rompere veramente i maroni i cocommeri però non vedo nessuno qui in giro scusate aspetta, qui c'è stampato oh, tieni venuto per ingrandire l lp rp ok ah, ok, posso dezoommare così e zoomare ok perfetto aspetta, io c'ho io un po' il cazzo a questi poi li porto là che è terra poi li ha metto dentro l'acqua ah ecco poi li ha lascio qua vediamo un po' che c'è sta qua dentro posso aprire? ah, premi ok, premi il back per vedere le cose da fare i comandi perfetto, grazie allora cosa è da fare? entrare nel giardino bagnare il giardiniere rubare le chiavi del giardiniere far sì che il giardiniere si metta il cappello attesa l'arca cazzo, eh è dura lancia il tastrello nel laghetto fare un picnic portare la coperta per il picnic se non c'è me la zucca e la rota me la... ok ha la coperta di picnic che non ho capito qual è però comunque adesso proviamo ad entrare cosa che qui non ci fa entrare vero? no dobbiamo aspettare che esce dal cancello come cazzo entriamo? se no no eccolo ciao zio scusa me fai entrare oh zio oh sto a pallacote me fai entrare oh oh me va a paffanculo non mi da retta niente tocca aspetta vediamo se riusciamo a tirarlo da qua forse riusciamo anche a bagnarlo scusa oh bronzo no 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 aspetta 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 devo aprire il rubinetto beh sto qua oh eh volevi scusa no no qua 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 apri bravo bravissimo bravissimo era proprio quello che volevo che tu facessi oltre a questo beh 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 ah tronzo ci sei caschiato eh ah 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 te la vien del culo ciao tronzo te la vien del culo ah ah ok allora due cose l'abbiamo fatta in modo molto molto easy adesso potrei prendere il barattolo di marmellata e mi sa che tanto bisogna come cazzo ci arrivo là sopra non lo posso prendere da qua devo correre scappando con la marmellata no 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 ecco già mi sono fatto sgamare che cazzo se me lo so trovato davanti ma edizione lui gli spawno tutto porco due tiè gli spawno tutto tutto il cazzo del raccolto si stacca è mia è mia zucca è mia lasciala lasciala ok dove l'ha marmellata ha rimesso a posto si ha rimesso a posto è deficiente una di qua siamo di qui così non ci vede oh da dove cazzo sta a salire perfetto ce l'abbiamo fatta ok che diceva qua fare un picnic portare alla coperta il picnic ok la coperta sta qua però la coperta non credo la posso prendere no infatti e allora cos'è zucca ah pure la zucca e la carota e la mila o il sandwich e la marmellata tutto praticamente tutto sarà una sfida molto ardua allora dovrebbe essere questo quel tavaiolo che lo intende vero ok perfetto adesso il signor obaio una carota e e una zucca e lei sarà molto tosto ok scusa zio mi serve una carota intacco là serve la carota voglio girarti velocemente ti lascia andare ah no non voglio girarmi velocemente ok aspetto poi mi serve la zucca una zucca che usare una parola venderla dove dai 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 non so quanto pesa sta cosa dai dai si è dato al giardiniero dove cazzo è andato andiamo 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 guarda che guarda come cammina sotto la zucca no ok però non mi dice niente se lo sto facendo o meno ok radio cesta e il termos e la mila termos e la mila dove sta il termos sta all'altizio la mila ah ecco la mila dove sta scusa è per la mila tua dove sta no 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 addio può portare a tarnazzare anche con le cose in buca no vabbè ok perfetto poi ci manca il termos che non ho capito dove sta cosa sta a pensare al vaso ma che cazzo pensi al vaso te dove sta il termo ah quello il termos è vero scemo eh eh ci sta a mila eh eh ci sta a pensare dove cazzo sta a mila eh non mi mettere un culo le chiavi no no vaffanculo me l'ho fatta solo cadere eh stava a scherzare oh eh allora sei stronzo ma stava come una merda meh vabbè me ne vado me ne vado stronzo eh me ne vado me ne vado ora se riesco io uncula io unculate io unculate io unculate io unculate io unculate via 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 mamma mia che mago che maestro e mu e chiavi col cazzo che ricuori tiè te ne vado un culo quanto sono cattico regà torno a cantino ok adesso posso andarmi a prendere il termos per dare affari miei tanto quello dove sta ah sta là ok facciamo giro l'arco in modo che lui non ci vede spero no ci vede come no 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 i dammi 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 ma guarda che sto stronzo pallio purtroppo quest'oga quando c'ha le cose in mano in mano si via 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 ciao stavo dicendo quando l'oga c'ha le ah questo no è questo il tiro che è deficiente devo portare le cose qui qua vabbè meno male che sono la nuova vicine ok è questo vero si si era questo ok perfetto mi sembrava strano che stavo che stavo a far giusto guarda che scemo che so comunque allora dovremmo dovremmo esserci in realtà che ci manca tramezzino quasi tutto tramezzino la zucca perché la zucca non ho capito perché stava nell'orto allora ha deciso comunque di prenderla anzi di inculargliela brava brava dovremmo trovare un nome a quest'oga guendalina come sugli aristocati guendalina la chiamamo o adelina adelina bla bla fatemi sapere voi come che nome gli potrei dare a quest'oga perché è troppo carina è troppo carina guarda come cammina guarda guarda comunque allora ci manca la cesta e la radio allora allora ci sta la vedo un po' scomoda portarla andiamo andai cammina cammina ok perfetto ci manca la radio e la radio scommetto che ce l'ha lui ehi mi serve la radio posso posso vero no la malla c'è pure l'acqua dentro io lo lascio qua io lo sposto solamente eh no è che mi serviva proprio quella e ma no me l'ha rimessa apposto io l'ho fatta cadere apposta guarda che sei infame aspetta vuoi la paletta aspetta apprende stronzo via 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 si si vieni 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 ci hanno pure qua i chiavi zio bravo rimani là rimani là rimani là tutto meno da un culo alla radio ciao mi ha fatto un po' da yazoo gioco raga è troppo bello però non esco su devi guardare oca su ok non devi puntare là maledizione molla oh eccola aspetta questo me ne sente no è maledizione però proprio lì davanti che palle che palle no quando sarei riprese le chiavi ma scusa non c'è credo ed è entrato nell'acqua e si è ripreso le chiavi o sono risponate ah no se le riprese proprio non ci sono più nell'acqua come cazzo ha fatto no vabbè ok però me l'ha contata far si che il giardino si metta il cappello attesa larga quello sarà sarà un bel dilemma lancia il rastrello nel laghetto e il rastrello qual è? mi serve la radio mi serve la radio no guarda dove l'ha messa sotto l'ha messa ok forse non si è accortato niente buono buono ok via 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 fattene a fanculo via 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 la radio cosa che l'ho scassata ho portato in acqua l'ho scassata oh ma non ci credo mi segue nell'acqua seriamente fatemi passare mi serve la radio zio non mi rompe ah ok perfetto sandwich non avevo preso il sandwich eccolo il sandwich oh perché non ve lo conta ho tutti e due i sandwich forse serve anche questo ok si serviva anche l'altro sandwich potevate scriverci sandwiches in inglese no in plural cioè era no vabbè comunque ora devo fare la cosa del cappello e il rastrello nell'acqua dove sta il rastrello eccolo là però devi camminare dritta ok quando corre sta ok non cammina dritta ma come gli pare via 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 corri 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 portiamo su via portiamo su via per magari va il giardiniere via 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 che non ci ha visto via 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 ok non ci ha visto non ci ha visto via 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 ok perfetto ok è andato un elemento oh no un elemento nelle cose da fare addirittura far si che il giardiniere si dia il martello sul pollice come nezzo facciamo tutte cose difficili adesso ci fa fare o saranno veramente toste ciao eh non ci sta più il rastrello eh lo so lo so ma lui vuole il cappello intende però vuole il cappello intende eh un cappello attesa all'arca che cazzo di cappello è più che altro come faccia a fare che asca il martello in testa questo non me lo ricordo l'avevo visto tanto tempo fa ma non me lo ricordo regà non me lo ricordo che qualcuno lo sa me lo scrivesse in chat e se ovviamente vi piace questo tipo di video questa serie e lasciate un bel mi piace e poi lasciate anche un commento ragazzi in modo che così lo capisco e posso portare anche altri episodi perché comunque sto gioco è carinissimo regà cioè che gli volete di è un po' una cazzata però farite dai a tutti gli effetti delle farite ma io non sto capendo dove sto andando in tutto ciò perché devo trovare questo cappello ma non so dove sia dove è sto cappello forse è il suo di cappello intende ciao zio lo devo tipo far spaventare ma come però ah ok mi posso nascondere ma vabbè aspetta ha messo il cartello noanadre ma che ma da quando l'ha messo ma ma noi siamo uochi e facciamo quello che ci pare eh però non ho capito dove è andato eccolo sempre la paletta ma non pensi un po' al martello no eh che mi ha visto così no dai così non mi dovrebbe vedere che cazzo faccio aspetta forse glielo devo fotte no se ce lo fottiamo che succede se ce lo fottiamo scusa devo dare gentilmente una mastellata sotto ai denti che ci serve aspettate andiamo un po' se riusciamo a no porca merda come facciamo maledizione arriviatelo tiè oh zio c'ho il tuo martello vediamo se adesso riusciamo a incularlo troppo presto mi sa niente e mi ho ripotto il martello eh no 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 molla 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 guarda 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 te eh che se guardamo ok grazie io lo lascio eh 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 dove è il martello eh dove è il martello il martello sta là l'incoglionito ah non gliene frega niente finché non glielo fa vedere può anche morire là lui niente oh che palle quanto è tosto sto livello quanto è difficile stare qui le ore a cercare di fare ste missioni che poi in realtà non credo siano così difficili ecco ma che lo fa vaffanculo come faccio non è così che se fa mi sa eh come se fa ti dirò il martello sul pollice sul pollice dove potrebbe essere intanto devo cercare quanto sta con sto cazzo di cartello che mi sta sui coglioni non ho capito e perché non ho anadre ehm ciao ehm non so veramente che fa raga cioè perché queste missioni sono altamente toste non riesco a capirle come come cazzalora si fanno non gli faccio solo un macello non si riesco a saltare no 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 se n'è accorto se n'è accorto mi fotto pure il martello 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 ehm molla ehm datte una martellosa sui coglioni e finimola qua niente non è così che se fa noi rubo le scarpe rubo lo stivale ciao ciao no molla 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 cacci tua fanculo niente da fa mi sa che questa cosa la devo vedere meglio perché se no stare qui veramente le ore perché non so veramente che fare raga che fare ehm boh intanto questo lo lo buttiamo molto più in largo così non lo non lo rivedrà mai ah 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 questa che è la mela portamola al picnic così ci fanno doppiamente merenda tanto l'abbiamo già portata però ne portiamo un'altra a posto eeeh quindi boh no vabbè guardate il menu il menu di gioco quanto è fatto bene c'è a cartellone stradale c'è spettacolo che figo comunque ragazzi io direi di concludere qua questo video gameplay diciamo speciale per il mio compleanno tanto per portare qualcosa di diverso vi ricordo di lasciare un bel like mi raccomando per sostenermi e per aiutarmi nella crescita del canale vi ricordo che vi lascio in descrizione tutti i link per eeeh per i miei social per donazioni per ho anche la lista insomma dei desideri di amadone se volete mandarmi qualcosa oppure basterebbe un solamente un mi piace sul video e mi accontento ovviamente lo stesso quindi ragazzi un saluto da Alexio e ci vediamo in un prossimo video bye bye ciao 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 Grazie per la visione!